Nel weekend, il 99% degli esseri umani vedrà la luce del sole nello stesso momento. In un preciso momento, nel fine settimana, quasi tutta la popolazione della Terra potrà vedere la luce del sole. L'umanità sta per vivere il suo momento più luminoso del 2023. Alle 13.15 ora italiana di sabato 8 luglio, circa il 99% della popolazione terrestre vedrà la luce del sole, salvo copertura nuvolosa. Ciò equivale a circa 7,9 miliardi di persone in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Africa. Nel frattempo, per il resto delle persone sarà notte, cioè in Australia, Nuova Zelanda e isole dell'Oceano Pacifico come Hawaii e Fiji. Certo che un articolo dove scrive nel weekend il 99% degli esseri umani vuol dire che è qualcun altro che lo scrive. O no, altrimenti, mi avrebbero scritto, nel weekend tutti noi vedremo la luce del sole nello stesso momento. O no? Comunque, cari amici e care amiche qui, fanno vedere come è illuminato il globo su un piano rettangolare. Ma cosa succede se lo adattiamo alla sfera dello pseudoglobo? Questo. Non crederete che il globo si illumini per un 60-70%? Vero perché allora siete veramente addormentati. Ma non parzialmente. La luce del sole nel modello aliocentrico può illuminare solo, e ripeto, solo il 50% di una sfera o geoide che sia. Non può assolutamente illuminarla oltre. Scoprite come invece può funzionare benissimo sul nostro meraviglioso regno piano che ci ospita attraverso l'indice alfabetico sotto la voce 8 luglio 2022, giorno impossibile sul globo. Con un sole piccolo, con un sole locale, come potete vedere qui, può succedere di illuminare queste regioni nel nostro regno piano, lasciando le altre parti al buio. Può succedere solo e solamente sulla terra piana.